amici di on tv buonasera benvenuti a una nuova puntata di che calcio vuoi allora è passato un giorno dalla partita di ieri tra Ternana e Frosinone che grazie a Dio è riuscito a rovinarci la Pasquetta perché a fronte di una partita divertentissima questo va detto, un bello spettacolo, ricca di golle eccetera, al novanta treesimo e venti secondi anche trenta è stato dato un rigore al Frosinone letteralmente inventato che ha portato al pareggio della squadra Ciosciara risultato finale 4 a 4 addio su ogni playoff che lo dico subito a scazzo equivoci io non ho mai creduto che noi avremmo fatti playoff ma avrei gradito che questa sentenza arrivasse dal campo e non per il fischietto di un arbitro di cui poi parleremo anche del suo passato della totale sciocchezza della sua disegnazione per questa partita assolutamente non andava disegnato questo arbitro che già la settimana scorsa l'ha fatto da anni e continua a farli e niente ce la prendiamo in zaccoccia come si suol dire 4 a 4 una bella partita divertente abbiamo detto una discreta cornice di pubblico rispetto al solio niente di eccezionale ma insomma qualcosa meglio poi il compenso a fine partita è arrivata anche la squalifica per il presidente Bandecchi ne parleremo anche di questo e via così è un bell'andare Gigi Manini buonasera Gianni Giardinieri buonasera allora io faccio fatica esattamente come Lucarelli ieri a parlare di calcio però se ti va di fare un editoriale sulla partita sei benvenuto che del calcio di rigore poi magari ne parliamo sulla partita sì è stata una bella partita giocata a viso aperto da tutte le squadre che volevano vincere entrambe molto bene la Ternana forse meritava qualcosina in più Frosinone non ha sfigurato ha avuto le sue occasioni era andato in vantaggio poi dopo però la Ternana soprattutto nella ripresa mi sembra che avesse giocato meglio l'aveva quasi portata a casa la vittoria posso contraddirti secondo me la Ternana ha giocato molto meglio meglio in generale meglio del Frosinone nel primo tempo che avrebbe meritato di chiudere in vantaggio anche largamente il problema è che abbiamo regalato due gol in maniera stupida e dopo se parti da 0-2 anche se giochi bene ecco Massimo fai 2-2 senza Soren, Zen e Capuano in effetti la nostra difesa ma poi l'avrei detto è sembrata vulnerabile quindi ieri ottima anzi grande prestazione dalla scindola in su quindi in base offensiva è prestazione come posso dire insufficiente diciamo insufficiente in difesa in generale beh ma è tutto l'anno bisogna a un certo punto lo diciamo tutto l'anno un po' più a 60 però quando insomma in campo ci sono Soren, Zen e Capuano le cose vanno un pochino meglio comunque mi ricerra Capuano beh no è entrato dopo è entrato alla fine comunque sia insomma adesso al di là di questo la partita come dicevi è stata bella divertente la Ternana ha dimostrato di essere un momento di grande forma a mente libera si gioca meglio probabilmente tu dici non avremmo comunque raggiunto i playoff però guardando il calendario insomma certo adesso andiamo a Benevento sarebbe stata una partita comunque difficilissima però Perugia in casa e Ascoli l'ultima ad Ascoli con un Ascoli che forse a quell'ora è già nei playoff e potrebbe riposarsi ci stava ancora la possibilità anche perché il Frosinone ha un calendario comunque tutto questo non vale più questa cosa venisse decisa dal campo no dall'arbito comunque tutto questo non vale più però io mi sento comunque di sottolineare una grande prestazione della Ternana soprattutto in base offensiva consideriamo che manchiamo ancora del nostro uomo migliore che è Falletti che è un giocatore che con gli spazi che ha avuto ieri secondo me avrebbe potuto fare faville ma comunque insomma alla fine direi che a questo punto il campionato per noi per quanto riguarda la classifica può finire qua chiaro la Ternana onorerà l'ha detto bene Lucarelli i suoi impegni soprattutto poi insomma abbiamo questa partita col Perugia è importante attenzione però non arrivare alla partita col Perugia troppo distanziati perché questo chiaramente da tifoso rosso e verde mi dispiacerebbe perché se noi malacauratamente dovessimo perdere come è possibile a Benevento e Perugia dovesse vingere la prossima sono matematicamente avanti a noi quindi insomma questo va valutato e anche questo ci costa la mancata vittoria di ieri perché se fossimo stati a 50 al virale ovviamente però aumentando mi interessa vincere il derby poi dopo arrivi in punto dietro in punto avanti cambia io comunque al di là del rigore abbiamo detto ne parliamo dopo però mi sento di poter sottolineare che la nostra squadra per l'ennesima volta ha dimostrato un pizzico e anche qualcosa di più genuita perché gli ultimi minuti al di là del calcio di rigore ripeto abbiamo detto riserveremo qualche minuto più avanti però insomma 4 a 3 risultato fondamentale non si gioca più la palla si come si dice si scoppia ecco la palla si scoppia non si gioca più il calcio perché io ho fatto insomma alla fine sono arrivato a 4 a 3 non è che ho fatto una tattica ostruzionistica per tutta la partita mancano 4 minuti di recupero e in quei 4 minuti di recupero io non gioco più anche perché a parti inverse giustamente il frossino e a noi ci è capitato quest'anno di giocare contro squadre che magari non meritavano di vincere ma che pur di portarla a casa è giocare in una certa maniera la Ternana gioca sempre e questo fa anche piacere in modo disinvolto senza perdere però insomma gli ultimi 3 o 4 minuti è una vittoria fondamentale che ti lascia aperte le speranze secondo me la palla e il calcio d'angolo non ci deve andare più e ogni volta che c'è un fischio dell'arbitro scusa vabbè tanto l'intervento mi sembra che l'hai concluso a proposito di calcio d'angolo ma era l'angolo poi quello da cui poi dopo scaturisci il rigore per me assolutamente no io l'ho rivisto almeno 10 volte però lì comunque angolo non è angolo devi protestare finché non venisse la partita ma i giocatori stavano andando via dopo ne venivano adesso rinvia e stavano salendo se tu ci fai calcio se tu vai a riguardare ma nessuno se il problema è angolo ma tu l'hai visto però ti sembra che Bob ne l'abbia toccato allora da da noi da dove eravamo noi non si vedeva eravamo lontanissimi comunque rivista più volte in televisione per me non era calcio d'angolo ma al di là di questo mi ha testimoni il Gigi ti faccio un cenno sulla partita ieri sull'1-1 ho detto a Gigi questa finisce tre pari quattro pari e poi ho detto segna al pettinare il quarto gol cioè da nostra Tamos e ci avevo preso la grande fino alla fine perché ero convinto che poi sarebbe terminata 4-3 perché ero anche fiducioso nella vittoria per un semplice motivo quando gioca contro squadre che non fanno cadenaccio come Frosinone che tutto sommato cercano di fare il loro si esprime al massimo perché può giocare negli spazi guarda il gol di Palumbo classico gol come avevo detto il portiere su tutte e quattro i gol c'era le sue responsabilità guarda che noi dei gol così abbiamo presi a bizzef però come dinamica di gioco c'erano due squadre che in campo hanno cercato di farne uno in più dell'altro piuttosto che prenderne meno possibile e tra l'altro il Frosinone ci ha fatto giocare su ampi spazi di campo quindi ero sicuro che l'avremmo portata in porto purtroppo è successo quello che è successo gli dedicheremo gran parte della puntata resta però il fatto che Ternana Frosinone è un po' come dire la summa del campionato della formazione rosso-verde cioè è una squadra che continua a prendere barche a date di gol tantissimi ne fa anche tanti perché Frosinone non credo che abbia preso in questo campionato quattro gol da nessuno se non da noi così come ne abbiamo fatti tre a Lecce siamo una squadra che segna tantissimo però ha questi limiti sui quali purtroppo anche ieri a fronte di devo dire qui devo dire bravo Luverelli di un'interpretazione veramente di grande utilità del match perché prima 3-5-2 poi 4-3-1-2 poi quando siamo andati sul 4-3 si è rimesso 3-5-2 quindi veramente la tentate tutte tra l'altro gli ho rimproverato e anche il TV lo dico l'altra volta che con il Lecce pure dovevamo fare 3-5-2 a prescindere dagli infortuni di Kravigas però detto questo la partita di ieri purtroppo è l'ennesima dimostrazione che quest'anno le cose vanno così cioè abbiamo una squadra che è la mina vacante del campionato e dentro anche il singolo incontro la singola partita è mina vacante di se stessa perché ha 10 minuti di grande calcio poi delle amnesie incredibili se vai a vedere il rigore nasce su tre rimpalli sbagliati di tre giocatori sul calcio d'angolo non si riesce a buttare via la palla tra Bobben proietti e un altro che adesso non mi ricordo per cui questo siamo ragazzi cioè purtroppo gioia e dolori e da qui però bisogna ripartire perché c'è la possibilità sappiamo benissimo dove intervenire e prossimo anno speriamo di metterci una pezza certo faccio l'inciso non bastano 4 under ma no quello dopo dopo ne parliamo ma quindi dipende dipende prendo spunto però per dire che quindi a gennaio ah l'ander ancora andani c'è c'è già 21 anni va per dire no però questo però a gennaio questa è la dimostrazione di nuovo che qualche giocatore di esperienza ci avrebbe fatto come magari non saremmo andare in playoff comunque però queste sono le situazioni in cui i giocatori esperti sarebbero serviti avevamo chiesto qualche giocatore capace di andare all'arbitro e dirgli che stai a fare l'avevamo chiesto l'avevamo detto non dire così non dite così ma in Abruzzo non ci sta però non dite così allora guardate io rinuncio alla mia chiosa sul vostro intervento perché voglio dedicare più tempo al rigore per cui vi dico pubblicità ci vediamo tra poco un negozio un negozio lube non è un negozio come gli altri sarà perché al primo sguardo capisci subito cosa significa essere lube sarà perché i nostri sono gli unici negozi certificati sarà perché insieme possiamo costruire passo dopo passo una storia sempre nuova scritta con passione e con l'attenzione che serve a renderla unica per questo in Italia la cucina si chiama lube Aterni invia Farini di fronte alla Coop Do you know where emotions come from? Aterni 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 Dog and Cat è arrivato in Umbria con tutto per gli animali e il loro benessere un'infinità di prodotti per animali accessori cibo di qualità e grande convenienza i nuovi reparti cane e gatto con crocchette umido e snack in tutti i formati che vuoi e tantissime varietà di gusto oltre 450 metri quadrati di esposizione in un ambiente accogliente ed interamente dedicato ai nostri amici animali Dog and Cat felici e contenti tutto per il cane e il gatto un grande e fornitissimo reparto di acquariologia roditori e volatili Dog and Cat vi aspetta da Spazio Verde Garden Village in strada di Marattapassa 91 a Tè i a Tè a un ha 4 o l i Bene, eccoci di nuovo in studio Allora, Jenny, tu hai preparato dei frame Chiariamo, adesso parliamo solo e esclusivamente del rigore Perché è una cosa vergognosa Prima ci sono i tuoi frame Poi mandiamo in loop il video Da qui si vede bene tutto Li dovremmo intronare come si c'è a terra No, ma che basta Allora, il presidente Bandecchi Per una volta che si è lamentato Gli hanno dato un mese di squalifica e multa Allora lo facciamo noi Noi voglio dire che ci fanno Allora, questo Penso che abbia seguito la sequenza che avevo messo Alessio Primo frame Il giocatore del Frosinone Guardate, cerca l'impatto col partipilo Perché lo dimostra il fatto che Sposta con l'esterno del piede destro La palla verso destra Verso la sua destra E invece di seguire con il corpo quel movimento che fa la palla Se ne disinteressa e fa un movimento con la freccia blu Di fronte al partipilo Quindi cambia direzione dei 90 gradi rispetto a quella del pallone E quindi era simulazione e giallo Altro che rigore Secondo frame Sì, questo perché fa vedere proprio il discorso della palla Che, vedi, sta completamente da un'altra parte rispetto a dove sta partipilo Guardate il giocatore Qui ancora mi sa che neanche ha toccato partipilo Qui ancora forse no Ma è già in volo e di lato Pronto per far abboccare Esatto Il simpatico arbitro Andiamo avanti Per ultimo questo frame In cui però si vede un po' L'atteggiamento della ternana Che, come dicevamo prima Anche fuori onda C'ha questo problema da sempre L'arbitro qui non è ancora deciso Guardate Sette giocatori del Frosinone Allargano le braccia per reclamare il rigore Gli ocontati sono quelli con il pallino ovviamente rosso E dei nostri solo in tre E ho messo tra parentesi al massimo Fanno il, come dire La protesta nei confronti dell'arbitro E questo tipo di atteggiamento Che la ternana non riesce a codificare Cioè di, non dico protestare sempre e comunque Ma insomma comunque farsi sentire Cercare di far capire all'arbitro Che c'è anche un'altra parte Nel rettangolo di gioco Va fatto assolutamente Guardate qua Sette giocatori Addirittura il portiere Minelli si gira E va direttamente Poi forse l'arbitro pare pure coperto Ma sta a chilometro più che altro Questa è l'ennesima dimostrazione E poi lo sottolineeremo Inadeguata a questo match Mandiamo il video In loop In loop E poi ci parliamo sopra Perché Insomma Allora È evidente no Che siamo un po' sfastidiati Questo mi sembra Scontato Io vi invito A guardare il giocatore Non guardate parte pilo Guardate il giocatore del Frosinone Il giocatore del Frosinone Tocca la palla E si tuffa Questo l'abbiamo visto Guarda Tocca È già in volo Si tuffa Mezzo metro prima Ma non ci pensa neanche A giocare al pallone Tocca la palla E si tuffa L'unico che protesta È Lucarelli Come solito Come solito Perché uno che A pallone Insomma Di nuovo In loop Qui E vedi Prima ancora di toccare Di ricevere Qualsiasi tipo di Se fosse andato a rivederlo Di questa cosa Si sarebbe accorto Io temo Che l'arbitro Non possa essere Chiamato al VAR Perché il VAR Ti può certificare Solo esclusivamente Se c'è contatto o no Beh no Però può certificare Anche se il contatto È cercato da un giocatore Cioè in questo caso Quasi sembra Quasi sembra Tocco E via in volo Volo Non c'è tocco Invece secondo me Senza VAR Potrebbe essere tratto in inganno Se puoi far rivedere l'immagine Il problema Gigi Che questo arbitro Di cui sono note le vicende Perché è stato radiato Dalla canna E poi ha vinto Un ricorso al tar È stato riammesso Dopo un anno Che è stato fermo Arbitrato Una partita Prima di questa No te la dico invece Perché c'entra Una partita prima di questa E questa Nella partita scorsa È successa la stessa cosa A parte che non era stato Latiato Ma nel caso Era stato dimesso Dimesso Quello che chiamo Scusate Termini tecnici Arbitrali Non li conosco Dismesso Dismesso Ecco Vabbè Diverso Morale della faula Arbitra Perugia-Cittadella Cittadella-Perugia Un mese fa No una settimana fa C'è un mese fa Un episodio da rigore Netto Netto per il Perugia Va detto A dieci secondi dalla fine A dieci secondi dalla fine Quello è il precedente Non se la sente Non se la sente Di fischiare Viene il suo bissato Di critiche Perché Allora Qui dice Oddio la stessa cosa Quindi non si preoccupa Di valutare Fallo o meno Dice No no Qui io fischio Perché se no Mi ricomincia Ci sta Ci sta Allora Per la miliardesima volta Del corso dell'anno C'ha ragione Fondamentale Per la classifica Qui c'è un discorso Torni Torni un mese dopo Infatti è stato anche sfortunato Dopo un mese Ti ricapita la stessa cosa Ugualmente al 94esimo Nell'ultimo minuto A quel punto Vai nel panico E dici Allora sto giro Il rigore lo fischio Perché altrimenti Risuccede Mi fermano un altro mese Quindi secondo me È stato anche sfortunato Lui e la Ternana Esatto E diciamo Che è stato furbo Del giocatore Del frosino Anche perché Il giocatore del frosino Frotola Appena sente Che l'arbitro fischio Si rialza E soltanto Con un grillo Giustamente Era Pasquetta Ecco è risorto Sì È risorto Va bene Lei va a messo l'uppo Perché se no Mi bazzisco Se lo vedo un'altra volta Ma avveleno ancora di più Però io non l'ho ravvisiato Nell'arbitro Come posso dire Beh però L'errore c'è Dopo il 4 a 3 nostro L'arbitrato Fischiava senso unico Secondo me Fischiamo sempre uguale No sempre Senso fischiando poco C'è un'altra contraddizione In termini dell'arbitro Se tu dai Il gol di Pettinari Che poteva anche essere Annullato In norma di regolamento Perché Pettinari Cioè lì non mi sarei arrabbiato Qui mi arrabbio Come una best Lì non mi arrabbio Se tu Tolleri Quel tipo Diciamo Di fallo Tra virgolette Di Pettinari A maggior ragione Non devi fischiare rigore Perché Stai interpretando La partita Secondo me non è stata aiutata All'inglese Perché il guardarino Stava lì Scusa Che l'arbitro sembra Quasi mezzo coperto E c'è sta il discorso psicologico Che abbiamo detto Non ho dato il rigore lì E mi sono attirato Un zacco di critiche Perché il rigore Era del Perugia Quello era clamoroso All'ultimo secondo E qui ha pensato Si rischia di fare la stessa cosa Secondo me Non lo vede bene Però insomma Ci salvare apposta Io penso Poi dopo Adesso detto questo Sul rigore Io ti dico Secondo me Quest'anno Non ho visti di peggio Dati contro la Ternana Voi mi dite Che è scandaloso No 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 C'è la sua opinione Forse non ci siamo chiariti Io vorrei fare un discorso più ampio Eh appunto Anch'io Stavo iniziando quello Dì che è tutto l'anno Che va così La Ternana Non conta un Cavolo Io stavo iniziando quello Allora C'è un altro problema Che secondo me Ieri sera Bandecchi Poi ha fatto pure bene Arrabbiarsi Capisco Perché poi a un certo punto Mi potevo giocare i playoff E all'ultimo secondo Li perdo Il problema è che Durante il campionato La Ternana Non ha protestato mai Ma l'hanno massacrata Cioè Bandecchi È andato Ognuno fa quello che vuole Poi è un presidente Che alla fine Ha fatto delle cose buone Per te Cioè questo Non si va A congratularsi E a fare Come posso dire Lo sportivo Con avversari In alcuni casi Che sportivi non sono Che sportivi non sono In alcuni casi Ma in altri casi Non l'hanno meritato Io mi ricordo Col Monza Troppo è venuto in conferenza Stampa Come per dire Di che si lamenta La Ternana No è lì Quella c'è costata Anche l'infortuna di fallere Ieri sera Grosso Cioè Adesso lo perdono Per il gol Che ha fatto la Germania Io dico che Grosso Che è un campione del mondo Non può venire a Terni A dire rigore netto Ecco Questa è una sorta Di provocazione Ti devi vergognare Stop Io avrei detto Io avrei detto questo Guarda Avrei detto Capisco l'amarezza Secondo me Il contatto c'è Andava valutato Io avrei detto questo Non mi pare scandaloso Almeno un minimo Di decenza Invece no Ma infatti ha perso Ha perso Come dire Stile perché Altri allenatori a Terni Hanno riconosciuto Anche quando hanno vinto Magari non avevano Ma lo stesso Lucarelli L'ha fatto qualche volta Sì lo stesso Lucarelli L'ha fatto Non solo ha detto Ricorri netto Attenzione Ha detto Il pareggio più che giusto Cosa che secondo me Tutto sballata Viglantando una serie Di dati Ha detto Ci sono appena usciti i dati Noi abbiamo fatto Più ti Nella gestione della partita La Ternana Meritava nettamente Scusa però Gianni Al di là Di chi meritava Tu vedi Il sangue negli occhi Di Lucarelli Per primo Dei giornalisti Anche di Fosi Rosso Verdi Tu vendri Zala Stampa Poi insomma Come avete visto C'è stato un elegante silenzio Nessuno ha risposto Giustamente Ma anche con fare Abbastanza di supponenza Però Io penso che per eleganza Avrei detto Capisco l'amarezza Perché quando prendi Con la 95 Anche se non fosse stato Calcio di rigore Uno può In più è un calcio di rigore E tu lo sai L'hai visto Che il tuo giocatore L'ha un po' cercato Diciamo così Beh insomma Quello mi è molto dispiaciuto Ma chi lo dici Perché io poi sono uno Che se c'ha un favore Non dico che avrebbe dovuto dire Sì Il rigore non c'è Quello no Non si dica Però Come posso dire Si usano altre Dire rigore netto Mi è molto dispiaciuto Comunque va sottolineato Un'altra cosa Cosa che noi non facciamo mai Allora no Scusa Tornavo a Bandecchi E finisco Durante il campionato La Ternana È stata troppo legante Ecco La Ternana Dopo Adesso scusa Questa cosa la dico Perché dopo me la di me Dopo la partita col Brescia Nella quale abbiamo avuto Un calcio di rigore decisivo Secondo me Per un'unghiata E dopo la partita Di Reggio Calabria Nella quale È stata ribaltata Il risultato La Ternana Dove a dire Ritiro la squadra Senza essere scuolificata Senza fare il dis La squadra Si la ritiro Gigi ma al derby Bandecchi ha detto Che non era rigore E appunto E qui viene fuori Cioè Se tu mi dici Che al derby Viene fuori Una figura fondamentale Dei quadri e dirigenziari Della Ternana Di cui parleremo Nella seconda parte Perché la prima È finita adesso A tra poco